Un poliziotto è stato ucciso a coltellate e un altro è stato ferito a Bruxelles. L'agguato è avvenuto nel quartiere di Sherbeck, nelle vicinanze della Gare du Nord, intorno alle 19.15 di giovedì. Prima di colpire, l'omicida avrebbe gridato all'Akbar, ma la circostanza non è stata ancora confermata dalle forze dell'ordine. L'attentatore è stato intercettato e neutralizzato da un'altra pattuglia arrivata in soccorso. L'uomo è rimasto ferito nella sparatoria che ne seguite ed è ora ricoverato in ospedale. Pare che l'aggressore, del quale non si conosce ancora l'identità, nella tarda mattinata di ieri si sia presentato al commissariato di Evere, annunciando l'intenzione di commettere un attacco contro la polizia. Sotto la supervisione di un magistrato, l'uomo era stato portato con il suo consenso in ospedale per una valutazione psichiatrica, ma dopo la valutazione è stato dimesso, qualche ora più tardi ha messo in atto il suo piano.